Andiamo avanti con il secondo classificato, giusto? Chi preghi? A premiare i secondi classificati chiamiamo l'altro rappresentante del GS Mascani che è Nicola Vigna Nicola Vigna Andiamo qui Nicola Nicola, Nicola, Nicola Andiamo avanti Vado Secondo classificato per la categoria Junior Asi a te 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 Eccolo qua Perfetto Grazie Grazie Un bellissimo applauso ad Asi Asi a te Asi a te Asi a te Andiamo avanti Di qua la resta terminale Il terzo Senior Allora Secondo classificato Andiamo avanti Secondo classificato Andiamo avanti Sì Mi stava dando la targhetta Stai ingerciato il primo classificato Andiamo avanti Categoria Senior Secondo classificato Bravo Non è tutto capito No non mi basta Un po' di più Un applauso Un applauso Secondo classificato Vieni sempre Riccola Ecco qui Così Perfetto Vieni 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 E un applauso Facciamo un bellissimo applauso Riccola Vigna Vigna Sempre la foto Allora Allora Vieni i giorni Al secondo classificato Perfetto Ecco qui Vieni un altro applauso Anche Asia Facciamo ancora un applauso Venite ragazzi Ragazzi Venite fuori in centro Facciamola fuori Asi Venite Facciamola fuori in centro Tutte e due Buona targhetta Ecco qui Perfetto Perfetto Un applauso Grazie signori Siamo arrivati Sul gradino più alto E sul gradino più alto Voglio chiamare Tutti i nostri Finalisti Finalisti Tutti in pancoscenico Grazie 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 Tutti i nostri finalisti Vi veniamo sul pancoscenico Venite ragazzi Siamo sul gradino più alto Fusco 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 ragazzi Bene Bene Venite ragazzi Venite Ragazzi venite Infregati